ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è il risultato del video contest di questa settimana andiamo a vedere questo cosa cosa ci aspetta insomma questa settimana vediamo chi ha vinto questo questo video contest di questa settimana adesso vado a caricare il mio video diciamo l'ultimo video che ho caricato e andiamo a vedere uno gta online e uno 27 e uno 32 contest questa settimana e andiamo a vedere andiamo a vedere vediamo quanti commenti ci sono 89 visualizzazioni 38 commenti e andiamo a contare andiamo a contare vediamo 1 2 3 e 5 6 7 andiamo avanti 10 11 12 3 andiamo avanti allora ricominciamo un attimino che non ci ho capito un cazzo mi sono impicciato scusate ragazzi però mi si impicciano gli occhi con tutti questi commenti anche perché le fotine qui le foto sono la maggior parte tutte uguali quindi mi si impicciano un pochino gli occhi vediamo ok 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 fino a qui allora siamo arrivati a 19 se non mi sbaglio adesso carichiamo 20 21 29 commenti ragazzi 29 commenti adesso discorrerò andando su però comunque sono 29 commenti escludendo i commenti di risposta insomma sono 29 commenti perfetto perfetto allora andiamo su random.org andiamo a vedere random.org non carica ah c'è lo spazio c'è lo spazio ok perfetto allora andiamo su random.org e andiamo a inserire il numerino 29 ragazzone andiamo a inserire il numerino 29 e vediamo chi sarà il fortunato vincitore il fortunato vincitore il numero 13 ragazzi il numero 12 sì allora 1 2 3 1 andiamo andiamo a contare contate insieme a me voi contate insieme a me 10 11 12 allora il 13 il 13 ragazzi se non ho contato male mi sembra Enrico Mucai Enrico Mucai andiamo a vedere sul suo profilo youtube non ha contenuti ragazzi non ha contenuti Enrico Mucai numero 13 quindi ragazzi allora io come ho già detto mi scoccia un pochino sta cosa mi scoccia un pochino sta cosa perché diciamo ci rimango un pochino male io quando vedo queste cose e anche perché mi costerà rifare un altro fortello allora non voglio annullare il contest perché non sarebbe giusto nei confronti di tutti gli altri però Enrico Mucai non vince mi dispiace per Enrico Mucai mi dispiace per voi altri però è giusto così è giusto così secondo me è giusto così perché a questo punto io non sto qui a pettinare bambole quando dico condividere i miei video non significa solo iscriversi al canale o mettere un mi piace anche perché a giudicare dai contenuti di Enrico Mucai non ha mai messo un mi piace a un mio video quindi automaticamente mi dispiace per Enrico Mucai ma non vince questo contest anche se era stato sorteggiato questo io ve lo sto realizzando diciamo in live sul mio pc e farò un'altra estrazione del video contest in seguito a questa per questo video è tutto un saluto da Maxi al prossimo video